benvenuti benvenuti cari amici siamo un video di questo nuovo video naturalmente come sempre vi ricordo di sottotitoli like iscriviti al canale iscriviti anche ad Instagram al coin che tornano a ripompare grazie a questo bump anche da parte BTC andiamo subito a vedere i top gainers di giornata cao più 20,3 per cento e cfx col più 7,3 per cento ora vorrei andarmi concentrare su bitcoin in questo momento 27264 dollari possiamo vedere come BIT sta tentando che andare ad attaccare questa resistenza dei 27.326 dollari che per il momento ok aveva anche leggermente ok passato quindi ovviamente ci saranno volumi per andare a passare assolutamente ok questo target ma che cosa stiamo vedendo stiamo vedendo il bitcoin sta letteralmente lateralizzando oramai lo sta facendo già dal 10 maggio oggi vi ricordo siamo il 23 maggio 2023 e sono già 13 giorni che BTC lateralizza storicamente quando abbiamo visto una lateralizzazione in questo tipo poi abbiamo sempre avuto un alco in season quindi vedremo se la lateralizzazione continuerà ancora nel caso dovessi continuare potrebbe proprio esserci questa alco in season perché perché la gente o che si sono su bitcoin e passa letteralmente sulle alco in risposta che c'è stata anche da parte di ethereum sicuramente pingente rispetto a bitcoin con 2.5 per cento ed ethereum è data passata proprio quella che è la resistenza dei 1850 quindi attenzione a me non sorprenderebbe ok che ethereum prende e riparte potremmo tornare in zona 1.900 secondo me abbiamo buone possibilità ok su ethereum di rivedere questi livelli ora vorrei concentrarmi sulle alco in perché stiamo aspettando che da tantissimo tempo questa famosa alco in season siamo a 8 sui 90 giorni e siamo a 20 negli ultimi 30 per cui parlavo che come più volte a fine maggio ci potrebbe essere questa alco in season e poi successivamente potrebbe seguire letteralmente una carestia rimango ancora di questa idea ovviamente chi dentro al crypto cowboy sa quello che sto facendo in questo momento con il mio portafoglio quindi se anche tu vuoi assolutamente entrare a far parte a family potrò notare il tuo co-graduita e andremo a vedere insieme quello che è il protocollo ora andiamo a vedere quello che storicamente avviene col patto dell'alco in season perché abbiamo avuto scale rockets da parte di bitcoin ovviamente questo scale rockets continua già da novembre del 2022 successivamente c'è stato anche comunque un bel pump che da parte di terno ma secondo me è ancora finito e poi dovrebbe esserci il famoso pump delle large cap per poi andare su quelle un po' più piccoline infine poi dovrebbe concludersi tutto per cui vedremo ovviamente altro indicatore a guardare è la bitcoin dominance assolutamente in questo momento si è a 48 quindi si è ancora alti considerando che il vecchio del 2020 oltamai 2023 sta a un livello di 49 quindi abbiamo ancora spazio che per andare giù quindi letteralmente le alcoin devono iniziare a prendere forza su bitcoin poi ora concentriamoci su pepe perché ci sono importantissime news che volevo assolutamente riportarvi all'interno di twitter scrivono meditation diciamo fase a quale non si sa ok dove andrà pepe cerchiamo di capelli insieme quello che volevo segnalarvi che addirittura c'è stato un aumento su punk e swap dove si offriva il 4.651% di API in qualcosa di assurdo poi successivamente è stato ricorretto che i pepe più sdt questa è la farm su punk e swap ovviamente se lo fate andate a delegare i vostri pepe andate incontro a un rischio sistemico che quindi potete perderli ma ora danno il 113 per cento quindi numeri folli ok dal mio punto di vista poi c'è stato anche il listing ok su bitfinex quindi insomma questo non è tra pietra migliare per quanto riguarda pepe ora sono stati a parti depositi e in seguito a questo listing c'è stato un 3.4 per cento sul giornaliero quindi direi interessante quello che sta venendo su pepe c'è una altissima volatilità e quello che io sto aspettando è anche un potenziale di listing su coinbase che secondo me arriverà quindi stiamo attenti monitoriamo pepe supporto di notica trader secondo me molto interessante in questo momento ci siamo comunque appoggiati su questo supporto di 1480 ricordo prezzo in questo momento di 1580 e potranno arrivare scale rocket se ci può stare vista la situazione anche di una possibilità coinciso però il target che sto osservando in particolare ovviamente quello di mille quindi magari in seguito miniscay rockets che sicuramente potremmo avere poi mi aspetto che ovviamente la coin potrebbe soprattutto in quest'estate ritornare a una zona di mille e lì sarà interessante andare a valutare tutto ovviamente dove sto tradando io pepe lo sto tradando su bingx trovate sotto alla fine descrizione avete 20 per cento di sconto sulle trading fees infine voglio andare a chiudere anche con shiba inu bel pump ok sul giornaliero ora c'è stata una piccola ricollezza del meno 08 per cento però siamo addirittura abbiamo avuto un più 5 per cento quindi interessante tutto se andiamo a vedere anche la capitalizzazione di meme sale dell'1.5 per cento grazie in particolare i pump di dogecoin e shiba che sono quelli maggiormente capitalizzati quindi vedremo se doge e shiba andranno letteralmente a riprendere forze secondo me abbiamo buone possibilità ok particolare volevo analizzarvi shiba inu che ho analizzato anche ieri vai a vederti quel video e in questo momento abbiamo un bel supporto su io 37 ti ricordo il supporto che avevamo avuto prima in data dicembre del 2022 arrivato addirittura a 7.33 quindi supporti che leggermente stanno diventando crescenti con potenziale diciamo volta mai relativo per quanto riguarda questo 2003 che anch'esso sta crescendo quindi non mi sorprenderebbe che rivedere shiba inu in zona 1.500 ok in questo momento ovviamente non sono ne così finanziarie così train però secondo me può avere la forza impulsiva per prendere e tornare su poi per quanto riguarda per l'appunto dove lo sto tornando io ho fatto anche il video ieri ci ho messo addirittura 4.500 euro e quindi ti mostro anche parte le operazioni ovviamente chi è dentro al gruppo cowboy le sa tutte ma voi tutte e tutte quindi ti invito a chi è per notare la tua cura gratuita se effettivamente sei interessato per conoscere questo protocollo e sto tornando per l'appunto sull'index questo è l'exchange che utilizza praticamente 20% di sconto sulle tre infine trovi sotto il link in descrizione infine andiamo a chiudere con fitcoin ok è vero c'è stato un bel dump volumi che sono letteralmente calati ok 15.000 di volumi solamente ma secondo me non è finita qui il fatto che i volumi siano così bassi la coin sta tenendo comunque un prezzo sensibilmente più alto rispetto a quelli di qualche tempo fa mi fa presagire mi fa bene sperare dopo di che vogliono stare proprio l'action in questo momento siamo al 1.373 quindi ovviamente quando ci sono volumi c'è qualcuno che scarica ok ma ci sta e attenzione perché proprio quando ci sono volumi che secondo me le vanno addormentare che dopo ci sono queste run come abbiamo visto in passato quindi attenzione perché secondo me una run potrebbe presto ritornare ora voglio mostrarvi anche un tweet fatto a fitlord e loro stanno veramente lavorando tantissimo perché su twitter nei quali loro scrivono c'è stato un grosso dump da parte di turbo di pepery mong il prezzo che di fit si è a testa tra i 15-25 quindi questa potrebbe essere un area ok da andare a sfruttare poi in aggiunta affermano che hanno fatto un milione di market cap come abbiamo visto e per l'appunto ha raggiunto oltre di 3.500 holders quindi su fitmart veramente è una coin super tradata abbiamo visto anche la collinezione nft ora dovrebbero arrivare anche nuovi checks sempre in polepositiongate.io vedremo vedremo se fit effettivamente riuscirà a caltestare tutti la vedo dura ok di caltestare pepe doge però ovviamente il senso è si possono fare letteralmente numeri ma si può anche andare a tradare ok questa cosa ora voglio mostrarvi quanto io in fit cioè non è che miliardi però comunque una sensibile bag per quanto riguarda fitcoin e infine volevo ricordarvi 25 maggio ore 21 manca pochissimo manca solamente due giorni e sette ore abbiamo ancora quattro posti quindi te lo dico subito iscriviti assolutamente a questa live e ti ricordo di di suggerire il like iscriviti al canale e noi ci vediamo presto hasta la vista ombre ok